secondo appuntamento con la rubrica rosso blu per presentare i volti nuovi dello staff tecnico del crotone siamo in compagnia di mattia lerda ciao mattia iniziamo con le domande lavorare in uno staff tecnico è già di suo una grande responsabilità ma nel tuo caso essendo tuo padre l'allenatore la responsabilità possiamo definirla doppia si la responsabilità si può definire doppia ma doppia da parte mia la voglia di fare massimo e gli stimoli e le motivazioni per cercare di aiutare il più possibile mio papà e lo staff e soprattutto i ragazzi come il rapporto di mattia con franco sia come padre figlio che in ambito lavorativo ma a dire la verità non cambia granché perché i miei genitori mi hanno insegnato il rispetto dei ruoli e quindi come accade nella vita normale diciamo per me i miei genitori sono delle figure di riferimento a cui posso imparare in questo caso lavorando con mio padre lui è la mia figura di riferimento quindi è abbastanza simile diciamo nei primi giorni di raduno hai avuto modo di prendere contatto con la realtà del centro sportivo dell'antico borgo cosa ne pensi? Sicuramente è un centro sportivo all'avanguardia che ci permette di lavorare al meglio sia noi dello staff e quindi di conseguenza anche ai calciatori e quindi ci sono tutti gli ingredienti per prepararci al meglio ecco. Come procede appunto questa fase di preparazione pre-campionato e cosa vi aspetta in questi giorni? I ragazzi si sono presentati con grande entusiasmo con grande spirito di sacrificio grande voglia di lavorare ovviamente i ritiri sono tutti faticosi perché diciamo che si dà si dà l'impronta iniziale alla stagione quindi servono per mettere benzina nelle gambe ma questo spirito di sacrificio questa umiltà e questa voglia di far fatica saranno i punti cardini che ci dovranno accompagnare tutto l'anno Per chiudere un saluto ai nuovi tifosi Un saluto a tutti i tifosi rosso-blu cercheremo di rendervi sempre orgogliosi Forza Crotone! Ciao! Ciao!